La notizia di oggi 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 Eh caro Mirko Penso che tu abbia descritto in modo Perfetto Quello stato d'anima D'anima di rimortarci tua Ti ringrazio mio signore Per le rotatorie Buongiorno a tutti La notizia di oggi No La notizia di oggi Guardalo poi coprino con la Guarda Questa notizia di oggi Bentornati a mordere roto La notizia di oggi Questa notizia di oggi Grazie 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 Grazie